Sesto convegno per il distretto Rotary 2072 a Ravenna, che da venerdì 17 a domenica 19 maggio si svolgerà in Biblioteca Classenze, Palazzo dei Congressi e Almaggià. La città bizantina accoglie così per la prima volta il congresso del Rotary che parlerà di cultura, sostenibilità e sviluppo economico. Tra i relatori Antonio Pattuelli, presidente Abbi, Andrea Segre, esperto di economia sostenibile, Cristina Muti, presidente Ravenna Festival. È la prima volta che si tiene a Ravenna perché è anche la prima volta che c'è un governatore di Ravenna e sarà un'occasione per fare il punto della situazione di tutti i progetti che sono stati portati avanti per un anno intero, anzi da un anno e mezzo sostanzialmente, di tutte le commissioni. L'Emilia Romagna investe su cultura, sostenibilità e sviluppo economico? Sicuramente mai come in questa regione qui questo titolo si calza perfettamente. Il titolo che ho dato al congresso si tratta appunto di cultura, sostenibilità e sviluppo economico perché noi, soprattutto gli americani, cerchiamo di far capire, soprattutto i rotariani americani, cerchiamo di far capire che noi italiani abbiamo questa caratteristica ineliminabile che vale a dire che abbiamo quasi il 50% delle opere d'arte del mondo per cui in Italia fare cultura vuol dire inserirsi in un processo che crea un incremento dello sviluppo economico.